amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazioni auto sportive oggi vogliamo presentare un lavoro che ci richiedono a volte i clienti ci richiedono e che non abbiamo mai fatto vedere o spiegato sui vari video che facciamo in questo caso il cliente questa qui è una mini cooper recentissima una f56 una cooper s quindi una mini molto recente dove il cliente ci ha chiesto di prendere un patito di silenziosità perché nonostante sia una macchina nuova comunque una macchina già di categoria superiore per i miei gusti andava già bene così però il cliente la voleva silenziare in maniera molto superiore quindi ci ha proprio chiesto di fare un lavoro totale perché poi il discorso di mettere questi pannelli forno assorbenti della dynamat si possono fare per alcune esigenze specifiche ad esempio tanti chiedono di diminuire la rumorosità del rotolamento delle ruote in questo caso vengono smontati i passaruota e qua sotto viene applicato tutto l'arco del passaruota viene applicato il pannello in questo caso ovviamente si diminuisce notevolmente quello che è il rumore dei pneumatici oltre a quello il cliente voleva insonorizzare anche tutta la parte interna quindi abbiamo smontato completamente la moquette quindi il lavoro grosso è stato quello di smontare completamente la moquette e sotto la moquette infatti sentite che è più morbido su tutta la parte diciamo sia anteriore sotto i sedili e posteriore è stato messo questo pannello un doppio pannello adesivo con un'anima interna tipo non è lana di roccia però è una cosa diciamo simile alla lana di roccia appunto si si chiama dynamat e serve appunto per fono isolare le superfici viene utilizzato in maniera molto frequente soprattutto nel campo automobilistico quindi tutta la parte interna insonorizzata poi abbiamo fatto anche la parte del baule quindi abbiamo aperto dove c'è la vasca della ruota di scorta lì proprio è la mira a vista quindi anche lì diciamo che una parte diciamo di rubosità sulla parte posteriore poi viene fuori quindi in questo caso abbiamo utilizzato invece un materiale diverso fatto un materiale spugnoso fatto in maniera cuneiforme in maniera tale che si possa appunto alzare e abbassare quello che il pannellino che sennò sarebbe diventato un po troppo pesante l'unico parte che non abbiamo fatto perché sarebbe veramente troppo complesso e non avrebbe dato dei risultati oltre determinati limiti è la parte ovviamente del motore quindi per insonorizzare il motore l'unica l'unico modo sarebbe stato quello di tirare via il motore e insonorizzare la parte diciamo l'apparatia che dall'esterno porta all'interno l'apparatia metallica che chiaramente è a vista la parte del cofano era già insonorizzata quindi questo non siamo intervenuti per il resto direi che la macchina adesso è decisamente più silenziosa di prima a ognuno i propri gusti quindi se qualcuno avesse necessità di fare questo genere di lavoro come ho spiegato prima si può fare anche parzialmente non è necessario fare tutta la macchina tirando via la moquette e facendo appunto un lavoro completo si può fare anche parzialmente spendendo delle cifre chiaramente più ridotte io direi che anche per questo genere di lavoro per oggi è tutto se avete informazioni chiamatemi in sede così vi spiego le varie tipologie e i vari costi che variano anche in funzione della macchina perché insonorizzare una jeep renegade su una jeep grancero che ovviamente a livello dei materiali non è come insonorizzare una mini però grosso modo vi posso dare un preventivo già abbastanza dettagliato per qualunque altra informazione andate a vedere il sito www.nomenagiri.it l'ultima cosa cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima grazie a tutti